Nel quartiere San Paolo, che è il più popoloso di Vasto, con 13.000 residenti, c'è un problema di traffico e di mancanza di parcheggi all'uscita e all'ingresso delle scuole cittadine. Qui ci troviamo in via De Gasperi, siamo a metà mattinata, quando registriamo questo servizio il traffico è naturalmente sostenibile in queste ore. Il traffico diventerà molto peggio nelle prossime ore all'uscita delle scuole che si trovano in quest'area, che è una zona con una ampia popolazione scolastica di migliaia e migliaia di studenti, con il transito dei mezzi pubblici, con il transito delle automobili e il parcheggio a volte selvaggio, proprio per mancanza di posti auto. Vediamo con le immagini del collega Nicola Cinquina quest'area, che si trova alle spalle della chiesa di San Paolo e davanti all'ex sede della scuola civica musicale, che da anni è stata trasferita altrove. In pratica qui, dove c'era un parco, o comunque un'area verde, con tanti alberi, che sono stati abbattuti tra le polemiche dei residenti e degli ambientalisti, quindi, dicevo, proprio in questa zona è stato realizzato ed è ormai completato un parcheggio. Tra l'altro abbiamo chiesto informazioni proprio all'amministrazione comunale di Vasto, che ci ha detto che di fatto è stato anche concluso il collaudo. Ma bisogna ancora fissare la data dell'apertura, dell'inaugurazione e anche dell'intitolazione, perché sarà intitolata ad un personaggio della città, ancora però da definire a chi sarà intitolata questa zona. Sono stati ripiantumati parzialmente gli alberi, nel senso che, lo vedete qui vicino al marciapiede e sul ciglio della scarpata, sono stati piantumati dei nuovi alberi, nulla a che vedere con le decine di alberi che erano ultradecennali e che sono stati abbattuti nel corso dei lavori. Ora, perché realizziamo questo servizio? Perché molti automobilisti, molti utenti, molte famiglie, per appunto degli alunni delle scuole che si trovano in quest'area, lamentano la mancanza di parcheggi e chiedono per l'apertura al più presto di quest'area. Tra l'altro ricordiamo che i lavori sono stati realizzati spendendo 832 mila euro e che verrà sistemata anche la parte antistante, attualmente parcheggio, la parte antistante, la chiesa di San Paolo, dove la spesa è di 940 mila euro per realizzare un lastricato, per realizzare una piazza che sarà solo ed esclusivamente destinata ai pedoni. E allora l'appello rivolto dai cittadini che si sono a loro volta rivolti a Chiaro Quotidiano è per l'apertura al più presto di quest'area parcheggio, in modo da decongestionare il quartiere San Paolo.